questa è la storia di Marlena, una donna a metà, una donna che sta per scomparire perché nel rincorrere un modello di perfezione ha negato una parte di se stessa siamo fatti di opposizioni come il buio e la luce, il peccato e la purezza Marlena è Maria, Marlena è Maddalena ed ha bisogno di entrambe per esistere Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna ho la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, quei morsi di mille serpenti fermo per le spire non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa, che ho paura di sparire e il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente una lacrima salata bagna la mia guancia mentre crede con la mano mi accarezza in viso dolcemente col sangue sulle mani scalerò tutte le vette, voglio arrivare dove l'occhio umano si interrompe per imparare a perdonare tutte le mie colpe, perché anche gli angeli a volte hanno paura della morte che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, corriamo via da chi c'ha troppa sete di vendetta da questa terra ferma perché ormai la sento stretta, che ero quiete perché oggi sarò la tempesta quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire quindi Marlena torna a casa, che non voglio più Prima di te ero solo un pazzo, la lascia che ti racconti, avevo una giacca squalcita e portavo Tagli sui polsi, oggi mi sento benedetto e non trovo niente da aggiungere Questa città si affaccia, quando ci vedo raggiungere ero in vivo Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più aspettare Quindi Marlena torna a casa, che il freddo qua si fa sentire Quindi Marlena torna a casa, che non voglio più sparire Quindi Marlena torna a casa E ho paura di sparire La terza classificata è Elisabetta Dallogno Forza classificata Forza classificata, mentre io ti cuore Prego Perza classificata foto 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 di dito con tutti i giudici con tutti i giudici tutti i giudici in posa tutti anche noi ci siete eccoci qua foto ufficiale terzo posto ancora complimenti secondo presidenato chi premia? chi premia? chi ci abbiamo? ah no no facciamo Mario Mario Turco Mario Turco sopra soprattutto secondo presidenato Lucia Baracchi Lucia seconda classificata prego sul podio seconda classificata foto di dito giuria contornatevi eh vi tocca contornatevi abbiamo la Cerconi che deve lavorare seconda classificata seconda classificata seconda classificata confinente ancora e abbiamo quindi la prima classificata della categoria Style Dance Amatori premia Alessio Pucci la prima classificata ooooh oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.